Obiettivo mezzala per rinforzare la rosa è quanto emerso dal vertice societario. Il reparto nevralgico ha bisogno di un interno a tutto campo. Per caratteristiche non sarà Zuelli ma neanche Lombardi. Piace Franchini che però non è in uscita dal Padova. Avrebbe potuto essere Daniel Sannipoli che invece è stato ingaggiato dall'Avellino. Sull'argomento e non solo, il DS dell'Icarri si è espresso così. E' corretto quello che ha detto il Presidente, al di là del budget. Io faccio un discorso un po' più ampio perché se no sembra solo ridotto al budget. Con un contratto in scadenza o fino a una cifra del genere, un giocatore o un buon giocatore come dice il Presidente, sicuramente nei nostri piani, come tanti altri giocatori, non era corretto neanche spendere 70-80 mila Euro. Dico la verità, avevo in mente una cifra che era quella da spendere per il giocatore. Non è che senza Sannipoli il Pescara non può giocare a calcio. Eravate focalizzati comunque su questo obiettivo, giusto per chiarire, no? Ma non solo su di lui. Siamo focalizzati su tante altre cose. Può darsi pure che i giocatori che non ti aspetti, che pensavi che non uscissero, escono all'ultimo momento anche dalla Serie B. Ma noi non inseguiamo le chimere. facciamo le cose che possiamo fare e facciamo le cose che dobbiamo fare, nel senso a livello di funzionalità del nostro centrocampo, perché oggi parliamo del nostro centrocampo. Quindi guardiamo con attenzione tutto. Vi sentite al sicuro eventualmente con un altro centrocampista, una mezzala, o serve altro per innervare la Rosa? No, no, ci sentiamo al sicuro. Questo è l'obiettivo. Questo è un gruppo funzionale al nostro allenatore, perché se così non fosse dovremmo cambiare l'allenatore. Quindi noi abbiamo fatto una scelta ben precisa di una funzionalità con il nostro allenatore. Oggi c'è questa funzionalità. Forse per il nostro allenatore non prenderebbe nessuno, mentre noi siamo convinti che ci manca un giocatore in mezzo al campo. Ecco, però ad oggi converrai con noi la Rosa è meno competitiva rispetto a quella dello scorso anno. Questa è una squadra che punterà a fare il suo campionato, un campionato di vertice, secondo me, se sceglieremo funzionalmente la giusta mezzala. Quindi con la giusta mezzala potrebbe ambire un campionato di vertice. Questa è un po' la sintesi del pensiero di Dell'Icarri. Ecco, le partenze eventuali, perché non possiamo mai essere certi quello che diciamo, le eventuali partenze di Colai e di Mora potrebbero a questo punto sbloccare l'ingaggio di un centrocampista importante? Beh, certo, certo, sicuramente. Questo è in dubbio. Noi proveremo a fare un centrocampista importante. Questo è quello che è il nostro pensiero. Siccome si è parlato di Battistella, tu credo che ci abbia già provato col Modena, però non è sul mercato. Oh, assolutamente, assolutamente. Eliminiamo Battistella da questa lista. Eliminiamo Battistella, poi, vabbè, sono inarrivabili Sunas e Tribuzzi. Stiamo parlando di profili troppo alti. Certo, 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 sicuramente. Grazie. 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 Grazie.